Alla fine della terza media, a tutti capita di essere assaliti da un dubbio. E adesso, quale scuola scelgo? Beh, noi oggi proviamo a darvi qualche suggerimento, perché è successa la stessa cosa anche a noi. Anzi, sentiamolo da loro. Perché viene al Manara? Perché abbiamo la bellissima palestra! Perché abbiamo la aula studente! Perché andiamo al teatro la sera! Perché la nostra è una vera ricreazione! Perché le nostre lezioni sono interattive! Perché abbiamo fantastico Cambridge Curls! Sì! Niente male, Cristo Dario! Dario! Grazie.